Il recupero in estremis per quanto riguarda Bitcoin nell'ambito della close della candela settimanale non è un recupero da poco, è anche estremamente significativo perché fa rientrare il breakout del livello di supporto dei 40-41 mila e lo fa diventare un fake breakout, come era stato il fake breakout, anche long in questa parte qui sopra i 44 mila dollari. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video dove andiamo a guardare solo questo grafico di Bitcoin che vi ho fatto vedere, però andiamo a fare anche una cosa molto importante, a chiarire un discorso estremamente rilevante sulla questione degli asset under management dei ETF di Bitcoin, questi qui ragazzi, perché nell'ultimo video dove ho parlato appunto del fatto che molti asset under management stanno diminuendo sugli ETF di Bitcoin a causa delle vendite di scale e che molti di quei Bitcoin non stanno rientrando per una questione contingente dovuta appunto alla tassazione di quei fondi che escono, vengono venduti eccetera, altri proprio non stanno rientrando, c'è stata una domanda super interessante sul mio video ed estremamente importante che era giusto chiarire perché c'è dietro un ragionamento che ha molto, molta, molta rilevanza. Quindi ragazzi, incollati alla sedia, è un video veloce, istantaneo, però molto importante, quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, ma soprattutto su quei pollici per la famosa cara del mi piace. Allora ragazzi, mi servono i mi piace per fare questi test, quindi lasciatemi il mi piace su questo video. Allora intanto partirei dalla questione legata al commento di cui vi stavo parlando sugli ETF e dopodiché andiamo ad analizzare questo grafico importantissimo di Bitcoin a time frame settimanali e ne parliamo ovviamente perché devo farvi capire una cosa. Allora Michele, dal mio ultimo video dove andavo ad analizzare quelli che erano in pratica gli asset art management degli ETF di Bitcoin, dimostrando che appunto stavano scendendo, che la quantità di dollari in pratica era scesa giornalmente, che questo comunque un impatto lo avrebbe avuto sui prezzi in un modo un po' non eccessivo secondo me, quindi un po' leggero, però in ogni caso è difficile che i prezzi salgano diciamo quando ci sono vendite, mazzicce eccetera. Allora giustamente poi Michele mi ha fatto notare in questo commento, che è veramente intelligentissimo ragazzi, che non era d'accordo con la questione dell'analisi dell'asset under management in quanto l'11 gennaio Bitcoin stava a 49 mila dollari, mentre adesso siamo sui 40. In pratica cosa dice Michele in questo commento? Dice se io vado a valutare gli asset under management degli ETF in dollari e li vado a valorizzare in dollari, quando Bitcoin era a 49 mila valranno di più rispetto a quando Bitcoin è a 40 mila. Perché? Perché quelli sono degli ETF a replica fisica e quindi hanno come sottostante Bitcoin. Il valore di Bitcoin perciò incide sulla valorizzazione degli asset under management. In pratica ragazzi è come se io ho due mele in una paniere, queste due mele valgono 2 dollari, io ho il valore di quel paniere che vale 4 dollari. Ma se io ho sempre due mele nel paniere e quel valore delle due mele scende a 1 dollaro, il mio asset under management, quindi il valore del mio paniere, scenderà a 2 dollari da 4 dollari. Ma non significa che io all'interno abbia venduto le mele, perché sono le mele che si sono svalutate in termini di dollaro, di valorizzazione in termini di dollaro. E' questo il concettualmente quello che Michele diceva, giustissimo questo commento. Tant'è vero che io lo avevo anche accennato in quel video, infatti poi io ho risposto dicendo esattamente questa cosa. L'ho spiegato all'inizio del video che teoricamente dovrebbe essere depurato rispetto della valutazione, ma mi riservava appunto di chiarire questa cosa cercando delle informazioni più attendibili. Perché? Perché nella tabella che avevo mostrato in quel video, anche io ero più volte andato a cercare il riferimento e non c'era scritto se c'era stata una depurazione di questo effetto, oppure semplicemente non veniva indicata l'unità di misura, come era stata lavorata, eccetera. Quindi era difficile andare a comprendere se questo effetto c'era o meno. Per tagliare la testa al toro sono riuscito a trovare quelli che sono gli asset under management degli ETF di Bitcoin espressi in Bitcoin, quindi abbiamo eliminato la questione legata alla valorizzazione del dollaro. Perciò in questo modo noi riusciamo a vedere in Bitcoin se stanno vendendo Bitcoin o no. a prescindere dal valore del dollaro in dollari di Bitcoin, ok? Spero di essermi spiegato. Allora ragazzi vi faccio vedere il primo grafico che è questo, che è la classica valorizzazione in dollari ed è aggiornato alla giornata di ieri. Si evince che in pratica ci sono le vendite costanti di Grayscale, che poi sono confluite più o meno negli ETF di BlackRock, Fidelity, Bitwise e anche ARK. Poi gli altri sono un po' più piccoli in termini di asset under management, soprattutto BlackRock e Fidelity la fanno da padrona. Però in sostanza l'ETF spot ha visto una fuoriuscita sommando di valorizzazione in dollari, soprattutto negli ultimi giorni per la costanza di questa fase di diminuzione. Se io però vado a guardare questa tabella, che è la stessa tabella espressa in Bitcoin, ottengo un risultato, diciamo mi dà un'informazione importante, che però ragazzi va analizzata. Secondo me è molto più significativa questa tabella di quella che vi ho fatto vedere prima, infatti cercheremo di utilizzare questa, che tra l'altro trovate sul profilo di BitMEX Research di X, su BitMEX Research. Quindi per fortuna potete vederlo tranquillamente anche voi, basta andare su Twitter, insomma, next Twitter e seguire BitMEX Research. A proposito ragazzi, seguite anche il mio profilo su Twitter, vi lascio il link in descrizione ovviamente. Allora, andiamo a vedere questa tabella che è l'espressione degli ETF in valuta Bitcoin, per vedere è successo o non successo di ETF Bitcoin, c'è da comprendere una questione. Il total ETF spot vede un incremento di 15.377 Bitcoin al netto degli inflow ed outflow. Questo significa che in termini pratici sono entrati 15.377 Bitcoin, che tra le altre cose, in termini dell'attuale prezzo di Bitcoin in dollari, 41.000 dollari circa, sono 630 milioni di dollari. Quindi c'è da comprendere, insomma, intanto questa cosa. Allora, questo è un dato importante perché noi da qui si evince in pratica che l'afflusso di Bitcoin è stato positivo o non negativo, quindi non c'è stato un deflusso di Bitcoin, non ci sono meno Bitcoin, ma ci sono più Bitcoin all'interno di questi ETF da quando sono partiti. Questo significa che tutte le vendite di Bitcoin di Grayscale sono state compensate dall'acquisto di altri Bitcoin da parte degli altri gestori. Però, attenzione, perché qui c'è la farloccata della statistica, perché va compreso una questione, ragazzi. Il problema dov'è? Il problema è che questi Bitcoin, che sono in più, erano già probabilmente stati acquistati prima dell'opening dell'ETF Bitcoin. Infatti, sono tutti presenti, la stragrande maggioranza di questi, nel primo giorno di quotazione. 14.193 Bitcoin, quello che vedete qui sull'ultima colonna. Ragazzi, non riesco a disegnare perché non mi attiva su un'immagine questa cosa. Ecco, ragazzi, sono riuscito a sbloccarlo. Vedete, qui in questa zona sono praticamente tutti il primo giorno. Questo significa, ragazzi, che questi Bitcoin già erano stati presi precedentemente e sono quelli che vedete qui di Fidelity, BlackRock e Bitwise ed erano tantissimi. Poi c'erano anche quelli di ARK e gli altri. In pratica, che succede? Che sì, è vero che qui ci sono stati degli influssi di Bitcoin acquistati, però è anche vero che sono stati nei primi due giorni e quindi in pratica erano probabilmente già presenti ed hanno solo attivato l'ETF che è stato lanciato e hanno messo dentro l'ETF quei Bitcoin. Quindi, cosa significa questo, ragazzi? Che dalla presentazione dell'ETF di Bitcoin il saldo vero, quello che noi abbiamo visto è negativo, teoricamente, o leggermente negativo. Non è positivo. Anche se, comunque poi c'è un'altra questione da farvi comprendere, questo tasso di positività non è così tanto elevato e ora lo capiamo. Allora, in pratica, perché dico questo, ragazzi? Perché, a parte il 15 che non ci sono i dati, per quanto riguarda gli altri sono, vedete, negativi tranne il 17 che in realtà è il vero unico giorno da considerare come positivo dove sono stati introdotti in pratica 10.000 Bitcoin pari a circa 410 milioni di dollari attuali al prezzo attuale. Allora, questo è l'unico dato vero positivo di inflow di Bitcoin perché avviene dopo. Questi probabilmente erano già presenti che sono stati inseriti all'interno degli ETF. Tutti quelli rossi che vedete sono vendite costanti che avvengono ogni giorno. 2.000-3.000 Bitcoin che vengono costantemente venduti dagli ETF. Non sono grandi cifre che più o meno, insomma, intorno a 3.000 Bitcoin ai prezzi di oggi siamo a circa 123 milioni di dollari che vengono venduti, ma c'è una vendita continua e un solo punto di acquisto. Quindi la questione qual è? Allora, punto primo, per chiudere, diciamo, la questione e comprenderci. A livello di quantità totali di Bitcoin sono positivi di 630 milioni, ma sono avvenuti nei primi giorni, questo significa, tranne il 17, che probabilmente erano quelli che erano stati acquistati nei mesi precedenti. Solo il 17 di gennaio presenta, in questo caso, un inflow di Bitcoin, di acquisto vero di Bitcoin e 10.000 Bitcoin, quindi sono stati aggiunti, sono anche assolutamente parecchi, anche perché quel giorno lì erano stati anche venduti tantissimi Bitcoin da parte di Grayscale, quindi in pratica c'è stato uno switch da questi qui, probabilmente che sono andati poi a finire su Fidelity e BlackRock una buona parte, ma in ogni caso c'è anche un'aggiunta, quindi un saldo positivo di altri 10.000, quindi questo è l'unico dato positivo. Questi non hanno nessun valore per le quotazioni post-presentazioni perché sono avvenute precedenti e questi invece hanno valore perché sono vendite costanti che prima non potevano essere effettuate, quindi è questo il problema. Mentre gli acquisti che abbiamo visto nei giorni iniziali potevano essere stati fatti precedentemente, queste vendite non potevano essere fatte precedentemente, quindi sono vere, sono attuali. In più probabilmente gli acquisti che abbiamo visto anche il 17 gennaio sono avvenuti direttamente in OTC andandoli a prelevare, a acquistare da Coinbase in maniera diretta, è vero che poi devono essere bilanciati, ma probabilmente Coinbase li sta bilanciando comprandosi le vendite di Grayscale, magari una parte di quelle, non abbiamo i dati poi dei wallet ancora, quindi non si può fare questo tipo di analisi, però cosa sta facendo? Se io te li ho venduti a te a 42.000, faccio per dire, non è che li compro domani sul mercato se so che c'è un grande player che li sta vendendo a migliaia ogni giorno, aspetto che me li venda a un prezzo un po' più basso, così anche Coinbase magari qualche soldone in più se lo intasca. Insomma, è un aggiro, un turnover di Bitcoin, però in sostanza è questo il meccanismo che può impattare negativamente sui prezzi come abbiamo visto. Quindi, dato positivo sì, ma è un positivo che è avvenuto prima delle quotazioni, dopo le quotazioni e il dato non è negativissimo, ma non è neanche positivo, e in ogni caso, anche se dovessimo ragionare il risultato positivo degli influssi di Bitcoin sono troppo pochi. Io lo so che magari a voi non piace questa cosa, ma 630 milioni di investimento in termini di Bitcoin aggiunti che riguardano sia il pre-quotazione, sia quello dopo la quotazione degli ETF, non possono avere alcun impatto rilevante sull'andamento della criptovaluta, perché sono pochissimi ragazzi, non arriviamo neanche a un billion per una cripto che vale quasi 800-900 billion, se non mi ricordo oggi quanto è, cambia ogni giorno, per cui, guardate bene, vi faccio il calcolo. Allora stono 800 billion, eccolo qui, 808 billion, quindi andando a dividere 630 milioni per 808 billion, mi vengono lo 0,0078%. Allora capite bene qual è concettualmente il discorso, non c'è nessun impatto degli ETF in questo momento di natura positiva in termini di pricing, perché l'impatto è assolutamente irrilevante rispetto alla capitalizzazione di Bitcoin, è diverso il concetto dell'impatto di lungo periodo in termini di possibili investimenti che potrebbero confluire. In questo momento ha più impatto la vendita di Grayscale, perché questa cosa qui? Perché è una vendita che avviene e nessuno glieli vuole comprare, loro probabilmente li devono vendere a prezzi abbassati, perché hanno l'esigenza di uscire. E siccome la finezza temporale è breve, ci speculano su questa cosa, quindi gli fanno pagare di meno, gli fanno pagare lo sconto, quindi gli fanno vendere a prezzo inferiore i loro Bitcoin. Tutto qui è la questione, quindi è molto probabile che l'impatto sia molto legato a questo. In più considerate anche il fatto che da un punto di vista emotivo la chiusura di una news importante mette comunque anche una pressione al famoso se non news, o dire ok, chi ha guadagnato tantissimo l'anno scorso per seguire il trend dell'ETF chiude magari l'investimento perché ha fatto un trade. Quindi giusto per rispondere alla considerazione che Michele aveva fatto, ragazzi, questi sono i dati su Bitcoin, positivi sì, ma vanno analizzati poi i dati non soltanto diciamo presentati in base a semplici numeri ed è molto importante fare tutte queste considerazioni che abbiamo fatto. Quindi in linea di massima spero di aver risposto a questa domanda. Andiamo a vedere l'altro grafico e chiudiamo. Allora, oggi recupero in extremis a livello settimanale interessantissimo. Facciamo una cosa, voglio mettervi anche un altro time frame daily a fianco per farvi capire anche un'altra cosa. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Eccolo qui. In modo tale da farvi comprendere come questo recupero di questa shadow avviene nell'arco di 1, 2, 3, 4 giornate oggi. Allora, da un punto di vista di short term, questo rimbalzo non modifica assolutamente niente perché il trend resta ribassista e non c'è soluzione. Così come, a un punto di vista di medio periodo, questo ribasso non modifica niente perché resta comunque un trend rialzista di medio periodo ma è molto invece rilevante la questione legata al rientro nella barra di congestione che fa sì che questo livello di supporto possa essere indicativamente non breccato. Attenzione perché? Perché manca ancora sabato e domenica e sappiamo che oggi è venerdì, intanto deve chiudere, poi manca sabato e domenica. Ora, io direi che questa finestra ragazzi si può anche allargare ad alcune shout un po' più sotto quindi io la posizionerei per fare un prezzo medio perché dobbiamo ragionare ad aria di prezzo non a prezzi singoli i mercati vanno ragionati ad aria di prezzo. Io indicherei 40.8 in questo caso e starei in questa zona. Ora, sabato e domenica chiudere sopra 40.000 e 8 e in questa zona sarebbe interessante far diventare questa candela verde è anche interessante ma dovremmo andare al di sopra dei 40.500 però è molto difficile però certo è possibile una cosa del genere addirittura con spinte da un punto di vista proprio settimanale che potrebbero andare a mangiarsi le precedenti candele fino ai 42.000 però la vedrei non so ragazzi la vedrei forse anche negativa perché la prossima settimana la probabilità poi che si vada a ristrutturare un ribasso per mangiarsi un pezzettino di questa shadow è molto alta c'è da dire che il mercato ha retto in questo momento il livello dei 40.000 40.008 e dovremmo rimandare tutto alla prossima settimana tra le altre cose rispetto al video che vi ho fatto vedere lunedì abbiamo azzeccato perfettamente il livello di ribasso del 21-22% io personalmente sono ancora in fase di attesa a parte le operazioni di trading che comunque c'è un trade long ma dura 1-2 giorni quindi niente di rilevante le operazioni invece quelle un po' più grosse sono in attesa di vedere le cose ben chiare sapete bene che vi ho detto in maniera molto chiara in questi giorni che dal mio punto di vista l'attesa fino alla fine del mese di gennaio quindi questa settimana e anche eventualmente la prima di febbraio è fondamentale per prendere alcune decisioni ma che l'idea non è fare short selling ma l'idea è riaccumulare ve l'ho spiegato in mille modi differenti sia bitcoin sia le altcoin e il resto di questa idea poi che la questione di ribasso sia finita con la giornata di oggi non la penso in così però è molto significativa anche la di ritorno in pratica in questa zona considerate comunque che a un certo punto queste massicce vendite da parte di grayscale si fermeranno ancora siamo secondo me a un tot di bitcoin posseduti da grayscale troppo alti quindi secondo me devono scendere ancora hanno circa 498 mila bitcoin saranno in discesa secondo me per buoni altri 20 giorni 10-15 giorni e secondo me fin tanto che queste vendite devono essere messe in atto da grayscale il mercato prezzi buoni non glieli darà perché non è scemo parliamoci chiaro insomma se voi foste al posto del mercato e sapreste che tizio e caio deve per forza vendere una quantità di asset che ha sicuramente gli dite ok me li vendi ma il prezzo lo decido io e te lo faccio basso certo non vado a fare un mega pump un mega boom no? allora non è cioè non è che ci vuole poi un genio a comprendere certe cose allora fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e buon weekend a tutti noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao